Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a speedrunnare Lili, il nuovo brawler, fino al rank 30. Se questo video vi piace vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Vi ringrazio dei 500 iscritti e si punta ai 600. Ora non mi dilungo oltre e andiamo subito nel video. Ok Peter, I did what I have to did. Ultimo game per Lili al rank 20. Siamo in due showdown ragazzi perché non abbiamo il terzo. Abbiamo fatto, vedete, tutto quanto il push in 3v3 ma ora non abbiamo il terzo. Andiamo andando avanti in showdown. Bello lo spawn. Con zero casse. Beh anche io. Andiamo a prendere queste due. Io faccio jumpscare a questo. È qua davanti, è sopra di me. Nice. Oh! I can do something though. Grabalo, grabalo, grabalo. Nice proprio. Riuscii, killa questo, killa questo. I try to do something special. I'm dead. Oh! Prima di tutto. Cosa vuole fare? Bro, ho 11 power. Infatti scappa, scappa. Oh! Miau! Oh! Bruttino quel surge, eh? Bravo Peter. Sono immortali ragazzi, ho 11 power. Oh! C'è Lello qua, eh? Occhio che ti grabba, eh? Uh! Chiudilo, chiudilo. What is bro doing? Non lo so. Boom, dai. E... Ma? È spawnato dal nulla. What off? Io ho one shotati con un colpo ragazzi. Tutto molto regolare. Rank 20 portato a casa. Giorno 2, siamo nell'ultima partita per Lily al rank 25. Ci siamo spostati in Brawball. E niente, andiamo subito con la partita. E questi come li buttiamo giù esattamente? No, non li buttiamo giù. Abbiamo statunitamente perso. Oh merda. Aiuto ragazzi. Questi fanno le strat. Beh, questo l'avrei già buttato giù io. E mi... Speed da se stesso. Speed da se stesso. C'è Frank qua dietro con l'ulti. Persi. Il buzz ha la star power quella del coso corto. Perché mi è stuonato per tipo 16 anni. Io non lo so, ma... Frank è stato uno hit per un'ora e non è morto. No, ma? Sono stato scammato. Mamma! Sono stato scammato. Ok. Certo. Aspetta. Sono molesto. No! Oddio. Ti prego, mettiamo il video. Ma certo che... Però dobbiamo vincere. Aiuto. C'è Frank con l'ulti. Porca miseria. Ti salvo il culo. Killalo. Oddio. Madonna. Ho visto io che ero più veloce della palla. Allora, sta. Ma quello che faccio? No, non mi ha usato il culo. Sì, sì, abbiamo preso il gol. No, perché sono il più molesto. Dove mi è andata l'ulti? Grazie, gioco. Scappo. Hai ucciso questo? Hai ucciso qualcuno? Capopappa. Capoplasa. Aiuto. È morto Buzz. Io avevo ucciso Buzz. L'ho ucciso io. Occhio, occhio, occhio. No, non fa il schizzo. Ma, ma, no, no, ragazzi, sto per impazzire. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E poi balla. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Pallina, lalina, lelero, lalero. E niente. E lene. Niente. Oddio. Muoio dal fuoco. Lene. Ce la facciamo? Alla. Lo faccio. Stiamo vincendo, eh? Spida, spida. No, non ci credo. Oddio. Abbiamo fatto. Let's go. Rank 25. La cosa più crazy del mondo. Oh, uovo. Giù, giù. Sinistra, sinistra. Raro. Raro. Oh, mutazione di... E via, continuiamola. Ultimo game per Lily a 900 coppe. Via. Eeeh, fast. Che qua non abbiamo tempo da perdere. Allora. Beh, guarda che io non ho dei bruttissimi matchup qua, eh. Posso andare tranquillamente dal... Oh, mi sa che... Anzi, puscio proprio dritto il Dynamite. Dimmi che non ha preso nessuno. Ma l'hai, ma l'hai. Mmm, mi hanno... Toglio sulla palla, stoglio sulla palla. Ah, merda. Te la passo, te la passo. Buono. Ok, primo gol andato. Ah, vediamo di fare qualcosa di più del nulla. Eeeh... Anzi, stavolta per destra. Ti prego. Ok, non mi ha stunnato. Se mi avessi stunnato avrei potuto... Sarei potuto impazzire. Carichiamoci la ulti. Passivamente così ci ricarichiamo anche la vita. Io direi di provare a pushare... Ok, lo spike. Loro sono morti entrambi, quindi noi ce la ciliamo. No, segno. Porco due. Eeeh, vabbè. Focus. Ho la super cilgotsky. Apre tutto anche qua. Tranquillo. Ma bro, io che faccio? Hanno spike e colette, non aprire tutto. Ok. Questo mi sa che... Provo fare un movement strano. Li pusho. Clean. Ok. Push it. Nice. 900 coppe portate a casa rank 28. Facciamo vedere qua che... Rank 28 portato a casa. Ehi, continuiamo così. Dopo tante sofferenze, ultima partita per le 9.50. Siamo col Manu e Tonale. Abbiamo cambiato 26 volte in questo video. Vedrete 26 team diversi. No, no, no. Non dirlo. Di che abbiamo fatto full win streak. Sì, sì. Manu, non si vede i nomi della gente. Oh, GG. Sono pure forti. Focus. Hai detto che lo countericolto, quindi... Ssh, Manu, questo... Non devi dirlo nel video. No, fuck. E' gol? Eh. Focus. Pressure. No. No, ma io volevo prenderla... Ci sta. Ok, è morta? Sì. Ok, nice. Ok. Nice. Eh... Ok, ho preso anche una mina. Dove venire, sì. Io me la cillo un attimo qua. Oddio, Ale ha segnato! Oddio, oddio! Focus, focus. Ho la ultima, posso sdrumare i colt. Occhio, ragazzi. Ah, mi hanno pinciato bene. Non morite, non morite. Ma voi mi raccomando. Palla, palla, ho bisogno della palla. Let's go. Let's go! Madonna! Nice! Erano pure forti questi, eh? 9,50. Yes, sir. 9,50 portate a casa. E ora incrociamo le dita e forse ci riusciamo ad andare da qualche parte. Terzo giorno di push. Siamo a 9,99. Ultima mattita per rank 30. Via, via, via. No, focus, focus, focus. Switch, switch, switch. Occhio, occhio a dag, ragazzi, eh. Non colpitero? GG. Vale. Mamma mia, io sono passato in mezzo, non mi ha iniziato a nessuno. Non ho capito cosa sia successo, sinceramente. Oddio. Oddio. Non ci credo! Let's go! Madonna. Nice. L'uner peggiore della storia. Rank 30, madonna santa. Yes, sir. Let's go. Yes, sir. Rank 30. Se il video vi è piaciuto, io ho sofferto come un cane per fare sta roba qua. Fate quel cazzo che volete, lasciate like. E iscrivetevi. Al prossimo video.